Dalla criminalità alle baby gang alla Movida alle poche denunce per le estorsioni. Il questore Alessandro Giuliano traccia un bilancio delle attività della polizia a chiusura del 2022. È una città che i turisti di tutto il mondo vengono a visitare e quindi noi di questo ovviamente siamo felici. Il che non ci induce a minimizzare peraltro le criticità che questa città ha, come la criminalità organizzata soprattutto, ma anche la criminalità di strada e su cui cerchiamo sempre di fare il nostro meglio. Non c'è un'emergenza di delinquenza minorile oggi a Napoli. È una realtà strutturale in questi territori, ha detto, rispetto alle baby gang. In un'area così densamente abitata e anche così densamente occupata da esercizi di trattenimento occorre trovare un punto di contemperamento tra il diritto al riposo e quella di circolazione dell'attività di impresa. E poi il questore rimarca la carenza di denunce per usura ed estorsioni. Molto spesso le estorsioni, ad esempio l'usura o altri reati tipici delle organizzazioni mafiose non vengono abbastanza denunciati. E questo determina ovviamente un maggiore sforzo investigativo, una maggiore difficoltà a conseguire risultati investigativi.